Benvenuti in un nuovo episodio del Simposium Podcast, come sempre vi ricordo che se volete conoscere le storie di successo di imprenditori italiani in tutto il mondo lasciate un bel mi piace, seguite il canale e attivate la campanellina delle notifiche. Oggi con noi Leonardo Leone e alcuni dei suoi manager della Leone Group, oggi rispetto al solito siamo molti di più quindi verrà una discussione interessante. Come sempre vi chiedo un po' di spiegare quali sono le varie aziende, i vari progetti che avete e poi partiamo dall'inizio a raccontare tutta la storia e qualche aneddoto simpatico. Bene, le aziende sono diverse, ovviamente oggi abbiamo un focus su tre rami principali, io sono un imprenditore e un formatore, formatore dal 2018 in poi, nasco come lavoratore e poi da imprenditore ho detenuto, ho aperto diverse aziende, ancora oggi ho aziende nel settore della ristorazione, attività servizi alla persona, attività anche nell'immobiliare, ma le cose che oggi ci interessano di più, il motivo per cui siamo qui tutti insieme sono quelle che hanno uno sfogo un po' più ampio, un po' più sociale, quindi lavoriamo su un fronte della formazione, quindi abbiamo dato vita ad una scuola e a diversi percorsi formativi, lato business e personale, abbiamo un ramo importante legato alle aziende, sia di consulenza sia di servizi alle aziende e anche con un circuito che dà vantaggi a tutti coloro che collaborano all'interno del progetto e poi abbiamo un'altra parte molto importante, un asset importante che è quello di una piattaforma crowdfunding immobiliare, questo è quello che ci porterà nel futuro a fare un qualcosa anche oltre confine. Ottimo, ottimo. Oggi come abbiamo già accennato prima parleremo ovviamente più di questa parte della formazione, dell'imprenditoria con cui ovviamente siete molto presenti online, quindi vorrei fare uno storytelling e capire un po' da dove siete partiti, ok, quindi anche tutta la tua storia precedente e poi piano piano come vi siete conosciuti, incontrati, come insomma i vari manager si sono evoluti all'interno dell'azienda, così capiamo anche poi all'opera vivo come siete riusciti a strutturarvi e diventare insomma una, avere una posizione abbastanza importante all'interno del mercato? Ma tutto è il collegamento tra un grande desiderio e delle grandi sfighe, nel senso qualcuno crede che le persone che arrivano a grandi traguardi siano persone o super dotate in tutti i sensi o che abbiano magari una spinta di un vento di fortuna, in realtà io ho visto che tutto parte dall'ambizione quindi bisogna desiderare ardentemente qualcosa, poi tu ti metti su quella strada e incominciano a succedere gli eventi e io penso di essere qui non tanto per gli eventi fortuiti ma tanto quanto forse anche di più per quelli invece nefasti, tipo che ne so, il primo evento negativo nella mia vita fu quando secondo me mia madre se ne andò di casa a otto anni, se ti vissi proprio il primo è stato per me un trauma importantissimo perché mi sono sentito solo, abbandonato, brutto e poi che ne so a 15 anni mio padre ha avuto problemi con la sua officina e quindi anche problemi economici ho dovuto smettere di studiare, però in realtà quello smettere di studiare in quel momento forse ecco ha avuto una sfera negativa ma anche positiva perché sono entrato nel mondo del lavoro a 15 anni e riparavo gli scooter, poi che ne so a 18 lavoravo al McDonald's mezza giornata, si può dire il marchio? No, fast food. Non c'è il problema. Ok, mezza giornata lavoravo in un fast food, mezza giornata lavoravo con un'azienda già all'epoca, io sono stato un precursore anche su quello, sui runner, portavo lettere, ok? C'era la corrispondenza quindi quello che si viene definito pony express e poi il venerdì o il sabato facevo, aiutavo come comino, un ristorante, prendevo le mie 45 mila lire, oggi sono passati tanti anni posso dire a nero, me le davano e poi ecco il trauma più forte, quindi l'unica cosa bella che avevo in quel momento di vita brutto, non dico parolacce, me le tengo, ok? È stato che la mia donna mi ha lasciato e si è messa con un mio amico, qualcuno dice Leonardo mamma mia che sfiga, invece forse quella spinta, quel dolore che ho avuto è stato un grande attivatore nella ricerca di me stesso, non farà accadere più questa cosa qua e quindi se vado avanti troverò tanti passaggi fondamentali negativi che invece mi hanno dato una spinta a fare meglio. Il mio primo negozio coaperto, sto sintetizzando la storia, il mio primo negozio coaperto senza soldi facendo debiti è fallito dopo, è fallito, l'ho fallito dopo pochi mesi, anzi credo di averlo comprato, è fallito perché era un'attività già aperta, era un centro estetico solarium e l'ho fallito, l'ho chiuso dopo pochi mesi e quello dice che sfiga che c'è, grazie a quell'esperienza sono riuscito il forte dolore ad imparare molto, è lì che mi sono adoperato ad imparare sia nel mercato, mi sono messo a fare il venditore porta a porta di prodotti di quel settore, questo mi ha già dato una parte di informazione e l'altro gap l'ho colmato proprio con la lettura di libri e con il fare i corsi, cosa che non volevo fare, ero pigro, non mi andavo a prendere i libri in mano, insomma noi italiani siamo molto creativi ma siamo un po' stitici nell'imparare e nel rilasciare informazioni, io invece lì il dolore mi ha spinto perché il dolore ragazzi di energia è un attivatore, mi ha spinto ad uscire anche perché avevo un forte motivatore che mi veniva dietro che era lo strozzino che voleva i soldi e quindi quello era un forte deterrente alla pigrizia e quindi mi muovevo di più di quello che una persona di solito si muove e studiavo nel contempo, questo mi ha portato ad imparare e ho iniziato a credere di poter riaprire poi un'azienda e andai proprio a riprendere quella, la fortuna dell'epoca che l'immobile dove c'era il mio centro estetico era di un ente, posto brutti, cioè proprio dimenticato da Dio, ecco proprio perché era dimenticato da Dio di un ente per due anni è stato chiuso, non ho pagato l'affitto, non mi è stato tolto, cioè le mie chiavi ancora aprivano e quindi quando io ho ripreso fiducia, ho reperito e recuperato liquidità sono andato a riaprire quel negozio e in pochi mesi è diventato un successo perché ero cambiato io, questo mi ha fatto ancora di più credere che le circostanze esterne possono sì, rallentarci un po', accelerarci ma la differenza la facciamo sempre noi e lì poi ovviamente ho capito che potevo riaprire un negozio chiuso, sono andato a caccia di negozi chiusi che pagavo, c'erano già gli euro, era il 2002-2003, cercavo negozi a pochi euro, 15.000, 5.000, 20.000, 30.000, li ristrutturavo a livello aziendale, quindi a livello proprio di procedure, di strategie, anche a volte a livello strutturale o di macchinari, quindi anche di allestimento, li rivendevo avviati in pochi mesi, 6, 6, 8, 9, 10 mesi, li rivendevo con un bel margine, li rivendevo a 100, 120, 150, dipende dall'investimento. Quello mi ha fatto reperire liquidità, sono diventato concessionario di apparecchiature, avevo una rete vendita importante, poi un altro dramma nella vita, ne salto qualcuno. Il 2009 un incidente mi ha fermato completamente e lì mi resi conto che la mia azienda era, sì, avevo delle aziende, diverse società, ma era una one man company, perché quando mi sono fermato io tutto mi è crollato addosso e lì imparai un'altra parte, un'altra parte importante dell'automatizzazione d'azienda, quindi sono ripartito da zero, perché sono imploso un po' con tutte le aziende, la mia rete vendita si è portata via clienti, credi, un casino che ti sto a dire, e però vedi che è successo, lì ho acquisito un'altra parte importante, cioè lì ho capito che non ero un imprenditore, vero, cioè l'imprenditore è colui che si rende veramente inutile all'azienda, non è colui che sta dalla mattina alla sera all'azienda, altrimenti sei un lavoratore che invece di prendere lo stipendio si è comprato un lavoro, e lì poi sono andato bene, diciamo che da lì ho messo proprio la quarta, sono aumentati i guadagni, sono cresciute ovviamente esponenzialmente l'azienda perché lì potevo delegare, avevo imparato veramente a delegare, e poi un altro danno, però autoimposto, nel 2017 ho avuto una crisi, una crisi perché andava troppo tutto bene, mi era nato un figlio da poco, avevo comunque, ero al mare, a casa al mare, felice così, avevo un esaurimento, cioè mi era rivenuto, io ho avuto diversi esaurimenti, sono andato dallo psicologo diverse volte, da piccolo penso che qualcuno, ormai se ne sarà già accorto, no? In base allo racconto che sto facendo, ecco anche andare dallo psicologo, per esempio mi ha aperto un mondo perché mi sono appassionato alla psicologia e ho studiato, non mi sono laureato in psicologia, anche se prossimamente forse prenderò la laurea, sfrutterò le conoscenze del passato, però lì ho preso un'altra parte importante. Stavo dicendo che grazie a questa crisi, io ho ripreso del dolore, l'energia che serve per fare un balzo in più, avevo capito che non era più importante crescere economicamente, ma c'era qualcos'altro da fare, un momento di isolamento della mia famiglia, ho lasciato la mia compagna dell'epoca, un bambino appena nato, ho viaggiato un po', mi sono rimesso nella vecchia casa in cui stavo, e niente, lì ho capito che dovevo fare qualcosa in più, iniziai a fare dei video per condividere su Facebook, quei video tra tanti contestatori, tra haters, perché tu appari ovviamente, feci un video col Ferrari, tu puoi immaginare nel 2017 quello che mi dissero, no? Ok, le peggio cose. Però poi che cosa è successo? Ho visto che tra tanti che mi criticavano c'erano persone che acquisivano know-how, perché io già facevo comunque consulenza aziendale, quindi a livello imprenditoriale avevo un expertise da poter condividere, lo facevo solo con gli imprenditori, non pubblicamente, e invece c'erano persone che attraverso una semplice diretta Facebook avevano un vantaggio. E questo mi fece riadattare tutto il piano futuro, e nell'arco di un mese o due ho scritto quello che poi è successo dal 2018 in poi, ovvero ho programmato un tour gratuito che ho fatto, che ho chiamato io Credo Tour, ho chiamato un'agenzia di marketing che all'epoca mi era molto vicina per organizzare tutto il marketing, ho prenotato una sala importante da mille persone a Palacongressi di Riccione, insomma costa tanto Gaizarob, e già ne ero sicuro di portare mille persone a questo mio primo corso, dove avrei raccontato quello che mi ha fatto passare dalle case popolari a ovviamente ad essere imprenditori in abbondanza, che tra l'altro c'è tra poco. Esatto, ma cos'è che diciamo avendo fatto imprese e comunque aziende di successo che comunque già portavano soldi, qual è stato lo switch che ti ha fatto dire passo anche a fare la formazione? Semplicemente è stata una voglia di differenziare le entrate, era proprio un credo, una passione che avevi venuto aiutare gli altri, o semplicemente ci hai visto l'opportino e ha detto mi ci concentro? Allora, a me chi mi conosce lo sa, sono molto diretto e sincero, molti credono che possedere belle macchine, ville e soldi sia di lunga vita che di felicità, ovviamente lo pensa chi non ce l'ha, quando tu ce l'hai ti rendi conto che noi, si dice proprio un termine tecnico, saturiamo, tu vuoi la Ferrari? Te la compri? Dopo la prendi, inizia a usarla tutto il giorno, fino a giornata Gian comincia a dire, mamma mia, calda, caldo, scomoda, poi il secondo giorno giri, incomincia a girare, a girare, a farti vedere con la Ferrari, poi dice, mamma mia, e poi c'hai la tua macchina lì, magari una Clio, c'hai una Clio lì, no? Dice, ok, terzo giorno mi prendi la Ferrari, devo farmi vedere, ah, giro, mi faccio vedere, mi diverto, sgommo, corro così, quarto giorno dice, tanto oggi devo andare a fare la spesa, poi devo andare a prendere il mio figlio, quasi quasi oggi prendo la Clio, e inizi un giorno a prendere la Clio, poi la prendi due giorni, poi la prendi tre giorni, e poi arrivi a prendere il Ferrari una volta, al mese se lo prendi. Quindi che cosa voglio dire con questo? Quando tu fai una rincorsa al denaro ed è giusta che ci sia, per liberarti un po' dalla schiavitù, perché poi possedere denaro non è possedere dei beni, possedere denaro secondo me è possedere la libertà, la libertà di non dover, tu lo sai, perché quello che fai ti permette di essere libero, di poter decidere che cosa fare, ecco per me oggi venire qua è libertà. E quindi quando tu assaggi questo, questa libertà ti diventa anche un problema. Nel 2017 non avevo obblighi, non avevo niente da fare, perché era veramente tutto troppo automatizzato, ecco entra il problema, perché il nostro cervello è un problem solver, se tu non hai problemi di risolvere, te li crei, è così che vengono gli esaurimenti nervosi. Il esaurimento nervoso non è quando hai troppi problemi, è quando o non ce l'hai e te li crei, o quando non riesci a risolverli, cioè quando tu non hai la possibilità di risolvere lo stesso problema, quindi andando a combattere sempre con lo stesso problema impazzisci. Immagina la vita come un videogame, no? Se tu fai il primo quadro, vinci, figata, secondo quadro sei eccitato, terzo quadro sei eccitato, se tu arrivi a un punto, fai conto, non so se hai mai giocato a Tomb Raider, un gioco dell'epoca o giochi, che ne so, di ruolo, no? Tu arrivi là e non riesci a uscire dal quadro, tu hai vinto tutto e non esci, impazzisci. E lì ti viene esaurimento nervoso. Ecco, nel 2017 è successo questo e non è andata bene neanche là. Cioè, io ho programmato tutto, tutto sistemato, dato l'acconto all'agenzia, ovviamente marketing che mi era vicina, io già avevo acquisito del marketing più ridimentale, più da strada, più imprenditoriale, che mi sono sempre fatto io, internamente e esternamente all'azienda, però il digital marketing, o il marketing quindi risposta diretta, la conoscenza del brand in generale, del posizionamento, non mi era proprio così vicina. Cioè, la conoscevo, la utilizzavo, l'ho studiata, però il digital marketing noi sappiamo che da un mese all'altro cambia tutto. Cioè, una cosa che funzionava ieri, oggi non funziona. Quindi questa cosa però, che cosa mi ha portato? a delegare completamente, cosa che sconsiglio in generale alla vita. Cioè, nella vita un imprenditore deve dominare tre aree fondamentali, il business in generale, il marketing, il sales e il management. Ecco, io ho delegato completamente il marketing, ho detto, beh, questi sono esperti, fate hobbies, ho fatto il calendario completo degli eventi, quello più ci vale, e niente, facciamo il primo tour a Roma, praticamente una persona in sala a un evento gratuito che mi costava tipo 100 euro, una roba del genere. Un ingresso in un gruppo gratuito di Facebook, si usavano nel 2018, il gruppo di Facebook, oggi si usa, ma insomma, marginalmente, mi costava forse 20 euro, 15 euro, non mi ricordo, una roba del genere. Insomma, da lì ho capito che non era lui, abbiamo fatto, c'è stata una discussione. Nel 2018 direi che i costi erano un po' ottimi. E sono rimasto al palo, sono rimasto al palo solo, qualcuno avrebbe mollato, avrebbe detto, vabbè, dai, abbiamo scherzato, torniamo a fare imprenditori come molte persone, mi dicevano, dai Leonardo, ma dai, e niente, che ho fatto? Ho guardato, diciamo, quello che facevano le persone più brave sul digital marketing, quindi il nutrimento, ho iniziato a fare dei video, me li montavo da solo, quindi avevo il computer, una reflex che non aveva neanche l'ingresso del microfono, insomma, quindi traccia audio, traccia video, final cut di Macbro, e mi sono fatto dei video, ho iniziato a fare questi video, ho iniziato a fare le mie prime sponsorizzate, e in mezzo alla collana delle persone che mi iscrivevo e che incontravo, ho fatto un incontro con Armando Perrone, e quell'incontro è stato, secondo me, magico, perché io, che cosa ho fatto, qual è stata la scelta, perché ho incontrato Armando, perché ho detto, come ho fatto più volte nella vita, e come fa un imprenditore, se non riesci a risolvere un problema, se qualcuno non ti risolve un problema, crei una nuova cosa, una nuova strada, ho detto, ho visto che non trovo agenzie marketing, perché poi mi sono fatto fare preventivi a destra e manca, gente che neanche te lo mandava al preventivo, sì, te lo mando, e poi non arrivavano, alcuni arrivavano dopo settimane, insomma, io dovevo muovermi, e quindi per non rimanere fermo, ho detto, ok, io divento il mio direttore marketing, prendo persone esperte, nella scrittura, nel montaggio, in quello e quell'altro, e la prima persona a cui ho pensato, perché ci aveva scritto tempo prima, perché già mi scrivevano, perché io partecipavo anche da speaker, ad altri eventi, è stato Armando, e niente, quando ho incontrato Armando, eravamo io a lui, e diciamo, la parte marketing parte con lui, quindi lui può continuare questo lavoro. Come ti sei proposto? Beh, diciamo che tutto partì dal mio desiderio di voler fare grandi cose, nel senso, a 17 anni già provavo a fare, avevo aperto una piccola agenzia di intrattenimento, col mio amico di banco, per fare le feste di 18 anni, ma noi avevamo 17 anni, si chiama Ciampa Animazione, c'è ancora la pagina, dove c'è il mi piace solo di mio padre, quando facevo le dirette, lui dice, Angelo Ferrone, mi piace le mie dirette, perché avevo sempre il desiderio di, avevo capito l'importanza digitale, facevo campagne online, attraverso degli e-commerce di un mio amico che aveva, lo supportavo, e vedi Leonardo, già come un imprenditore avanzato, perché un mio amico, me ne parlava sempre, me ne parlava sempre, e lui diceva, tu stai facendo un progetto importante, portavamo pasta fresca a casa delle persone, già cotta, in 30 minuti, solo era gratis, ad Avellino, quindi ad Avellino, che c'è una mentalità molto ristretta, porto un'innovazione del genere, era qualcosa di wow, perché volevamo fare il franchising, Leonardo era un imprenditore, e lui inizia a seguire, gli scrisse, gli dissi, guarda io, visto che stai facendo questo nel mondo formativo, mi sono formato a 17 anni, ho fatto questo, questo, questo e questo, quindi capisco le informazioni che stai trasferendo alle persone, è una cosa che sposo appieno, perché credo sia una missione di vita anche per me, spero un giorno, e metto a disposizione il mio tempo, tu trasferisci le informazioni imprenditoriali, e da lì ricordo che era il 20 gennaio 2018, qualcosa del genere, tu avevi 17 anni? No, 19, in quel momento, quindi in quei due anni, avevo, sì, facevo 19 anni dopo 10 giorni, quando ho incontrato Leonardo, e mi scrisse Leonardo, mi chiamò Leonardo, mi fece una videochiamata, ed era appena andata via mia nonna tra le mie braccia, quindi io dovevo, ero triste da un lato, e dall'altro lato, dì sì, cioè, non posso apparire triste al primo appuntamento con un imprenditore, no? E lui mi disse, vabbè, domenica che c'hai da fare? Io, niente, allora, vieni a Roma, e mi sono trasferito dopo tre giorni, sono arrivato a Roma, e da lì abbiamo un po' costruito, eravamo da soli, in macchina, a lanciare le prime campagne, per riempire l'estate del tour, e da lì, la mia esperienza è stata molto trasversale, perché oltre al marketing, e poi ho incontrato Eugenio, Salvatore, e poi Michele, è stato un lavoro davvero impegnativo, trasversalmente, perché un'azienda non è basata solo sul marketing, c'è tutta la parte sales, e poi di management, che quindi io costantemente ero ossessionato di vendere, 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 perché nella mia testa ho sempre un'attitudine alla conquista, nel creare fatturato, 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 dall'altra parte bisognava generare lead, 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 dall'altro fronte doveva costruirsi una squadra, perché all'inizio con Leonardo eravamo polipi, cioè registravo, montavo, lanciavo il funnel, di notte, la mattina gestivo il customer care, la fatturazione, e quindi da lì, piano piano, ci siamo portati a casa dei piccoli risultati, ma tante sfide, ci sono stati mille motivi per rinunciare. Beh, considera una cosa importante, visto che oggi, molte persone guardano Leonardo Leone Group, o Leonardo Leone come formatore, come formatore, insomma, siamo una delle scuole più importanti, abbiamo avuto il tasso più alto di crescita, dopo il Covid, in Europa, non in Italia, insomma, 500% quasi in governo, insomma, hanno fatto cose importanti, però non è stato sempre così. Il primo evento, visto che ho detto, mille persone di obiettivo, in una sala che ne porta mille e due, non mi hai chiesto quante persone c'erano, al giugno del 2018, quante persone c'erano? Ma questo era il primo evento? Primo. Secondo me, per come è raccontata, 150. 120. Sono stato bravo. Sono stato molto bravo. No, una domanda volevo fare, perché questo era il 2018, no? Sì. Quindi, nel 2018, nel mercato italiano, andava il webinar funnel automatico, perché avete preso la decisione di intraprendere un percorso nel mondo della formazione, partendo dagli eventi dal vivo, che non è una cosa molto tipica? Questa è stata la mia idea, diciamo. Eh, ok, il ragionamento dietro, cioè, lui è stato vincente. No, perché sicuramente la prima cosa che bisogna fare è differenziarsi, cioè nel senso che Leonardo non era un imprenditore rispetto a tanti altri che non avevano mai avuto un'impresa e parlavano di formazione, e fare la stessa cosa associavano, e se associi di conseguenza non ti differenzi, se non ti differenzi non vendi, e quindi fai tripla fatica, e quindi per differenziarti noi abbiamo fatto tutta una strategia, dove le persone incontravano Leonardo, ascoltavano Leonardo, andavano nel dettaglio di Leonardo rispetto a tutto ciò che in quel momento andava, perché c'è senso ancora ad oggi, il concetto di guru che parla alle masse, visto in una maniera sbagliata, perché? Perché le persone costantemente associano qualcuno che è bello, sta in un posto figo, prende una Lamborghini e dice diventa libero grazie a questa informazione, e probabilmente ci sono tanti di loro che hanno un grandissimo storia, hanno fatto tante aziende, hanno fatto dei bellissimi risultati, altri no, però tutti vengono immischiati, messi nello stesso calderone, e questo è un grande rischio per chi vuole fare impresa, e capire che cosa fanno gli altri, molto spesso farlo opposto. In quel momento io l'intuito che ognuno di noi ha, e che ogni tanto deve essere ascoltato, mi ha portato proprio a preferire la relazione dal vivo, cioè nel senso tu entri in un mondo in cui non ci sei, non esisti, perché io one to many da palco, quindi non avevo mai fatto formazione al di là di quella imprenditoriale, quindi ma agli imprenditori direttamente come consulenza più che formazione. Tu arrivi in un mercato già saturo di formazione, perché comunque il 2018 era già un momento dove tutti sparavano a bomba al di là, poi delle haz, ma ci sono, diciamo, formatori in Italia da 30 anni, altri sono altri, quindi tu entri da sconosciuto, secondo me o entri col botto, entri col botto vuol dire che il modello campagna elettorale, quindi cominci ad essere ovunque in televisione, per cui crei quel trust, quella fiducia, oppure devi guadagnare il tutto con la relazione. Con la relazione vuol dire che devi essere un po' dappertutto, però se non sei in televisione devi essere dal vivo, perché già in quel momento, nel 2018, non so se tu eri già operativo, io ho appena iniziato, nel 2018 comunque c'è stato un picco 2014-2017, 2018 è stato il momento della selezione, e quindi in quel momento della selezione io non ero esperto, ma secondo me anche molto più esperto di alcuni del momento, tra cui quelli che mi stavano facendo marketing, quindi ho capito che, come diceva Armando, per entrare bene in un mercato, ed essere credibile, o comunque almeno per avere l'attenzione di qualcuno, dovevi differenziarti, e quindi essere presente nel territorio, dare delle tappe, e dare la possibilità alle persone di conoscerti dal vivo, e attenzione, il processo principale è quello del dare, senza chiedere, cioè tu vai a dare tre ore di formazione dal vivo in un orario comodo, nella tua città, cioè questo ti mette in condizione di essere accredito con le persone che ti ascoltano, oggi tutto il nutrimento, tu parli molto del nutrimento, la base è questa, quindi Cialdini è stato sempre chiaro, oltre nel suo libro dove parla di reciprocità, le persone, se tu vuoi conquistare le persone, devi nutrirle, devi sedurle, un po' come una donna, quindi tutti i corsi di vendita che ho fatto, all'epoca in cui avevo quel motivatore, tutto quello che ho fatto sui marciapiedi, insomma alla fine oggi, uno lo puoi anche digitalizzare, ma i principi sono gli stessi. Esatto, sono d'accordissimo, infatti è, c'è una cosa non convenzionale, che però secondo me ha funzionato, anche perché poi dopo, diciamo di default, anche a livello di comunicazione, di autorità, oltre alla relazione, quindi veder toccare con mano, tra virgolette, poi anche il parlare su un palco, già da comunque sia autorevolezza, c'è il caso studio alle spalle, sicuramente anche dimostra il fatto che, una persona ha uno storico, perché uno improvvisato, non si può permettere a gratis, fare gli eventi in giro per l'Italia, per vendere qualcosa. Ha un costo, un costo vero. Esatto, un costo vero di tempo, perché poi devi spostare, risorse eccetera. Ecco, io da imprenditore, magari chi mi conosce lo sa, l'ho detto sempre dall'inizio, questa è realtà, quando ho iniziato, ho aperto, tu ho detto, l'hai fatto per uno scopo, un secondo fine, come per dire, hai fatto un'altra azienda nella formazione, oggi è un'azienda, perché comunque abbiamo, 200 mila euro al mese di costo, insomma abbiamo tantissime persone coinvolte, quindi oggi è un'azienda a tutti gli effetti, ma quando siamo partiti, quando ho deciso, proprio nella mia casa, da single a Roma, io ho pensato alla formazione come un hobby, che desse agli altri, anzi facesse raggiungere agli altri, un obiettivo al contempo uno importante per me. Cioè una persona che è stata tradita, abbandonata, o si è sentita sola, avrà tutta la vita una ferita legata all'importanza, e al bisogno di importanza, quindi, e di presenza degli altri, e quindi puoi fare questo facendo danni, oppure facendo del bene, e quindi io ho capito che per avere l'attenzione e l'importanza delle persone, avrei dovuto aiutarle, e questo mi permette di raggiungere obiettivi dell'ego, dando agli altri. Poi è ovvio, è diventata un'azienda, oggi purtroppo siamo sotto il regime dei numeri, quindi dobbiamo stare attenti a quello che facciamo, alle campagne che facciamo, alle cose che scegliamo, perché comunque se potevo bruciare in un anno 100-200 mila euro, oggi non è che posso rimetterci un milione all'anno per fare un giochino, insomma per divertirmi. Ok, e quindi da questi eventi fallimentari iniziali, dove avete iniziato a vedere che poi... Aspetta, prima arriviamo alla presentazione poi, perché c'è stato un incontro del primo evento. Mi aggancio proprio alla sua domanda, nel senso che dopo questi eventi fallimentari, quando è che tutto è cambiato, le cose sono iniziate a prendere un risvolto positivo, è quando si sono unite le persone. Cioè quando ho incontrato persone straordinarie, che ora sono per me sia colleghi, ma allo stesso tempo anche amici, con cui condivido la maggior parte del tempo, perché non so se qualcuno di voi se ne ha reso conto, lì fuori è proprio difficile condividere informazioni, avere un discorso a un determinato livello, e tutto partì con Eugenio, che la storia è meravigliosa, prendi parola, Eugenio era il primo evento di Cromedestino, ha creato una testa di 120 persone, mise un annuncio, ho bisogno di un videomaker, e lui si candidò a un buon prezzo, dicendo, visto che io ti faccio un grande sconto, perché aveva già visto, la conosceva Leonardo, venne, venne con un'altra persona, e fece un video alla fine dell'evento, un after movie, proprio alla fine dell'evento, non dormì la notte, pauroso, belisì, e Leonardo rimasero stupiti di questo video, e poi naturalmente ci salutammo, lui gli chiedemmo un altro video, ci chiese, non so, un sacco di soldi, mi ha detto, 1200 euro, 1200 euro, e io e Leonardo ci siamo guardati, no, 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 in questo momento non è la cosa giusta, non la posso mai dimenticare, e la cosa bella che poi successe è che, vedi che lui era in una zona di Firenze, io ero a Prado, eravamo tipo a 100 metri, in una serata, e gli disse, ah come stai, vedi che con Leonardo saremo un mese a mare, e la villa al mare, se ti va di venire un giorno, vieni, poi che si successe? Nulla, è successo che dovevo stare due giorni, no, tre giorni forse, e ora sono cinque anni, è andata così, è andata così, no, ma veramente, cioè tre giorni, dovevo stare tre giorni per parlare di cose in renti al lavoro, e poi proprio non sono più andato via, cioè non avevo la valigia, cioè così proprio, è andata esattamente così, sì, sì, diciamo che Eugenio, è molto umile, ma aveva già un pegresso di esperienza creativa, per me è una delle autorità, a livello di direzione creativa di marketing in Italia, infatti aveva seguito Toads, Jaguar, Bulgari, si mi occupava di videoproduzioni, e quindi quando l'ho incontrato, io ho sempre avuto questa attitudine di mettere insieme persone forti, nel senso, io sono, chi collabora con me e con Leonardo, o mi ama o mi odia, perché io ho sempre standard altissimi, molto alti, e quindi quando qualcuno si avvicina a noi, c'è del valore, insieme siamo più forti, e quindi io mi ricordo l'ultimo giorno, gli disse Eugenio, dai, non c'è niente, lo so, non abbiamo realizzato niente ancora, siamo gli ultimi arrivati nel mondo formativo, però ne sono certo che un giorno qualcosa di meraviglioso succederà, ci siamo guardati negli occhi, e ci siamo detto, non mi posso fidare, e io ho detto, dai fidati, perché costo quel che costi, io farò in modo che questo avvenga, Questa visione di non mollare, questa è una cosa fondamentale, ti permetterà sempre di più di avvicinarti persone con quel mindset, e sono sempre persone a fare la differenza, quindi tutti quei periodi bui che abbiamo vissuto, che sono stati tantissimi, mille problemi, una volta ci hanno abbonato la pagina Facebook, una volta hanno tentato di rubarla, una volta hanno tentato di rubarla, qualunque ci è successo, credetemi, sotto il profilo marketing, sotto il profilo sales, anche sotto il filo di miraggio reale, con le risorse, ancora peggio, e quindi ci sono sempre stati con Leonardo, mi ricordo tante volte ci ritrovavamo in hotel, durante alcuni eventi, che ci guardavamo, e ci sono, ma, continuiamo? Sì, continuiamo, perché c'erano mille motivi per fare qualcos'altro, che potesse darci forse meno pensieri, forse l'impegno sarebbe stato lo stesso, ma con meno pensieri, e poi vediamo alcune persone che non capivano l'importanza di formarsi, e quindi noi stavamo lì, diciamo, come cazzo fai? Scusate. Questa cosa qua, ancora non è risolta. Non è risolta, però vediamo persone che spendono migliaia di euro, per borse, scarpe, cose, viaggi, ci sta tutto, perché noi siamo i primi a farlo, però, voglio dire, non puoi conoscere meglio il tuo telefono, il tuo visore, della tua testa. Certo, roba assurda, e con un genere abbiamo fatto i miracoli, raccontaci qualcosa di bello. No, diciamo che secondo me le grandi cose nascono da un miglio origine, infatti, se ti ricordi, la terza notte, forse mi pare, sì, era la terza notte, erano le tre del mattino, eravamo a parlare sul marciapiede, sul lungomare, sul lungomare, a Fregene, sul marciapiede, e il primo contratto l'abbiamo fatto su un tovagliolo, su un tovagliolo, su un tovagliolo, che poi, dopo qualche settimana, venne una signora dell'amministrazione, con questo tovagliolo, e mi disse, Leonardo, mi ha dato il tuo contratto. Come fare il business? Questi consigli, consigli per casa, come fare il business? Non scherzo. No, è per dire che comunque, cioè, se, come dicevi prima tu, se delle persone che comunque credono a una cosa, si trovano bene tra di loro, il foglio di carta diventa secondario rispetto a quello che è la missione, che poi uno va a condividere. Ma certo. Essenzialmente, penso molto questo. E nulla, con Leonardo è nato esattamente così, e, e, ecco, poi la storia del preventivo, vai. Una cosa importante, secondo me, da trattare, perché tu mi hai colpito, come l'hai raccontata, e anche Leonardo prima, nei tuoi confronti. Ovviamente, Leonardo veniva da un percorso già imprenditoriale, però questo progetto, alla fine, era un progetto che partiva da zero, non so neanche quanto, dalle altre aziende, è stato poi allogato dei budget qua, ma non ci interessa, ok? La cosa che, ovviamente, secondo me, è interessante da analizzare, è come, Leonardo, nei confronti tuoi, e poi a, diciamo, a Scaglioni, tu e tutti gli altri, come è passata questa visione? Cioè, come è stata comunicata questa visione importante, nonostante all'attivo c'erano dei fallimenti, per attirare comunque talenti, che poi si sono dimostrate effettivamente, cioè, persone vincenti. Poi, magari, sicuramente sono state convolte altre, che non conosciamo, che hanno fatto i danni, ma quello, ovunque. Però, comunque sia, come è stata comunicata questa visione, per far sì che il talento è stato attratto, poi, all'interno dell'azienda? Inizio io, perché per la prima volta l'ho fatto io con lui, e poi lui l'ha fatto con gli altri. Allora, io credo di essere stato avvantaggiato dal fatto che avevo già credibilità, cioè, nel senso, ovviamente ho detto delle cose, ma non ci siamo incontrati su marciapiede, quindi avevo già credibilità per quello che avevo già fatto, ma questo non, io non credo che basta, no? Cioè, non basta prendere una persona che ha già delle aziende, e dice, quello che dice, andiamo sulla Luna, ci andiamo. Oggi diamo il credito che diamo a Elon Musk, lo diamo per tutto quello che è già realizzato, perché se uno viene e dice, ti porto su Marte, lo mandi a cagare, non è che fai altro. Beh, diciamo che l'affermazione che ho fatto ad Armando, quando ci siamo incontrati, è, più o meno andiamo su Marte, perché io, da zero, da imprenditore, gli ho detto, mancavano cinque mesi, perché era giugno, giugno, no, ma quattro mesi, tra quattro mesi mettiamo mille persone, voglio mettere mille persone al palacongressi di Riccione, e dal che, insomma, lui si era già formato, aveva speso soldi, conosceva la formazione, e conosceva il marketing, quindi sapeva che era un obiettivo, io penso, poi ve lo dirà lui, molto ambizioso, ma sostanzialmente una frase che gli ho detto, gli ho ripetuto più volte a lui, o anche a altri in generale, è quella a qualsiasi costo. Ah sì. Cioè, a qualsiasi costo, noi creeremo una scuola, una delle più importanti, ma non in termini numerici, ma una di quelle che sprigionerà più valore, le persone lo capiranno, che non siamo uguali agli altri, dobbiamo solo mettere il focus su quello, una lente su quello, affinché le persone sappiano quello che stiamo facendo, e il marketing serve proprio a questo, a mettere la lente su un qualcosa, amplificare un messaggio, diciamo un ruolo che ha svolto per tanto tempo la televisione, cioè lo svolge ancora, neanche non lo svolge, però sostanzialmente la missione di Armando con me, è proprio questa, cioè prendere il mio messaggio, la mia visione, la mia evoluzione, poi vi dovrei raccontare delle cose che magari sono abbastanza anche un po' intime, però diciamo perché io ho avuto proprio una roba, nella mia crisi, ho avuto delle cose mie, che mi hanno detto, cioè ho sentito proprio che questa era, come se fosse una chiamata sostanzialmente, anche perché fino al 2017, io ho una bella vita, insomma, si stava meglio prima, tempo libero a go-go, cioè qualità della vita, cioè io quello che ho fatto in questi ultimi sei anni, cinque anni, non l'ho fatto in vent'anni forse, quindi a livello di tempo, di investimento, anche come diceva lui, di imprevisti, di pensieri, perché prima un imprenditore, quando ha la sua azienda, controlla la sua azienda, però provatevi a mettere nei panni di un premier, nei panni di un premier, dove hai tantissime variabili, tu dici Leonardo, ma che c'entra avere una scuola di formazione, o un'azienda di consulenza aziendale, rispetto a essere un politico un premier, beh io credo che ognuno di noi siamo, siamo dei politici, facciamo la nostra politica, così come esiste la macroeconomia, noi decidiamo quello che facciamo dei nostri soldi, giusto che sia, la nostra microeconomia, ecco quando una persona alza così tanto, come diceva lui gli standard, cioè l'asticella che dice, parto dalle case popolari e voglio sistemarmi, poi dal sistemarmi voglio sistemare la mia famiglia, poi dopo che sistemo la mia famiglia, perché vedo casini, voglio sistemare i miei amici, poi sistemo i miei clienti, poi dei miei clienti dicono sistemo dei corsisti, poi dai corsisti vuoi sistemare il mondo, cioè mi sono messo in testa di migliorare l'Italia, e alla mia affermazione ovviamente, di migliorare le cose in Italia, Armando mi ha creduto, sono stato credibile nel modo che gli ho detto, in quello che avevo fatto, lui ha capito che la formazione non era fine a sezione, o fare fatturare 10 milioni, ma la formazione era un passaggio fondamentale per unire e aiutare le persone, per un progetto più grande, che avevo io disegnato fine 2017, inizio 2018, ma che poi ognuno di noi c'è dentro, noi condividiamo quello che proviamo, noi siamo incazzati, ce la vogliamo sempre prendere con qualcuno, se siamo felici vogliamo aiutare tutti, ecco, quando uno fa soldi sta bene, è felice, vuole condividere, quindi Armando ha attivato, ha acceso quella miccia, ha preso bene il testimone che io gli ho passato, è stata poi una staffetta, perché poi quando lui ha incontrato Eugenio, gli ha trasferito la stessa visione, ed è questo quello che succede, così è partito per Steve Jobs, così è partito per tanti altri personaggi, che attraverso una forte visione, sono stati contagiosi, e quindi, poi ovviamente lo lascio dire a lui, ma la miccia si è accesa, e continuiamo, io penso che la differenza che facciamo, come abbiamo fatto, molte volte ci chiedono, al di là delle capacità di marketing, come hai fatto in quattro anni a dominare un mercato, cioè arrivare proprio ad essere una delle prime, ecco, riconoscibili, o comunque non c'è poi il primo o il secondo, ma insomma, tra le migliori, secondo me è quando, in un momento come questo, dove emerge, ok, la sostanza, il valore intrinseco delle cose e delle persone, perché abbiamo detto che il marketing è un amplificatore, allora in quel momento tu riesci attraverso la semina a costruire un obiettivo importante, a meglio e lungo termine, anzi col passare del tempo cresce esponenzialmente, e quindi noi credo, a differenza di altri, abbiamo fatto questa accelerazione sicuramente per le competenze, e per l'etica lavorativa, cioè noi ci impegniamo seriamente, non chiacchieriamo, anche se chiacchierare è lavorare, come adesso, però realmente noi ci impegniamo seriamente, ma credo che quello che hanno riconosciuto, le persone in mese, poi perché ovviamente sono stato io il catalizzatore dell'attenzione, anche sotto il Covid, è il riconoscimento dei valori di molte persone nei miei valori, cioè quando io nel 2020 me ne sono uscito, parlando un po' della situazione della cattiva gestione che c'era stata in Italia, dell'emergenza sanitaria, l'ho fatto senza secondi fini, l'ho fatto proprio spontaneamente, prendendomi anche giudizi e pregiudizi delle persone, quindi l'ho fatto proprio anche da cara a chi, cioè proprio mi sono suicidato da una parte imprenditoriale, perché sappiamo tutti imprenditori che non si parla di politica, non si parla di sesso, di orientamento quindi religioso-sessuale, e quindi io l'ho fatto, l'ho fatto proprio per il bene, cioè ho visto che c'era un'inefficienza, una mancanza di informazioni nel mercato, e ho iniziato a ballare. Però, ma diciamo che la cosa che ha fatto la differenza nella crescita esponenziale del gruppo, come dice Armando, è proprio il testimone che io sono stato in grado di passare a lui, lui di prenderlo e di ripassarlo agli altri. Beh, che dire, posso soltanto affermare che io sono grato sia alla vita che un po' a tutti, cioè nel senso non so chi crede all'universo, beh, in tutte le cose in cui non è, grato di aver incontrato loro e tutti gli altri manager, nel senso che nulla si costruisce da soli, nel senso che tu hai 12 ore, ma anch'io posso lavorare 12-14 ore, ma non costruisci nulla, e cosa ti permette, la tua domanda precedente, di costruire un team forte, di avvicinare persone forti, ed essere matto. Cioè, se sei matto, cioè, chi è forte è matto, cioè nel senso non è normale, non è una persona normale. E, diciamo, per la legge della risonanza, no? I simili attraggono i simili, se tu sei normale, troverai persone normali, se sei uno che si lamenta, troverai persone che si lamentano, ma se tu sei un tipo di persone, si avvicinano a te un tipo di persone. E quindi, ad oggi, quando ho incontrato Eugenio come primo, poi io ero lì ancora molto, come dire, nella parte operativa, Eugenio è tutta la parte strategica, idee, cioè noi, eugenialate, lui ha, capito? Cioè, nel senso, lui non ha idea, ha delle eugenialate, che mi stupiscono tutti i giorni, cioè io costantemente sono entusiasta di delle cose che succedono, e poi, gli scrissi un messaggio in un gruppo Facebook, dove c'erano tante persone che erano molto attive nel marketing, ho bisogno di un braccio destro, qualcuno su delegare un qualcosa, e scrissi un copy persuasivo, dove scrive, mastermind col milionari, tutti i 50 mila euro che ho investito io in formazioni, te le regalo, tutti i bullet point potentissimi per attrarre qualcuno che era civera, qualcuno che voleva costruire, e, misi naturalmente, io ho delle strategie per far sì che filtro, faccio un funnel anche per le risorse, no? Misi un filtro che era quello di un typhoon con 40 domande, perché se mi manca il curriculum non neanche lo guardo, il curriculum mi dice un cazzo, il curriculum, e quindi, c'era questo typhoon con 40 domande, tempo due giorni, c'erano 50 risposte con 40 domande, e non c'aveva nessuna voglia di leggermela tutta, ma sono stato fortunato, perché a un certo punto un mio amico, in una collaborazione a 18 anni, un imprenditore napoletano, mi chiamò per utilizzare la strategia di marketing, quindi di digital marketing, i famosi bot, con many chat, per chi si ricorda, per fare recruiting di personale, un mio collega di lì mi scrisse, Armando, mi mando degli screenshot, poi ve li mandiamo, se possiamo mettere in soluzione per farlo ridere, dove c'era la sua foto, ok, anzi no, utilizzo la mia foto, ok, una mia foto dicendo, conosci Armando Perrone, digli che sono la persona migliore per lui, per la posizione che è aperta, quindi si è fatto raccomandare in modo indiretto, facendo ads, quindi pubblicità, su la società vecchia, e questo mio amico, io quindi la prima cosa che ho fatto è chiamarlo, molto disinfolto, io a livello di vendita, dicendo ciao, ho notato la tua candidatura, gli ho dato troppa importanza, perché se no, ho notato la tua candidatura, ti va di venire a Roma? E lui inizia a farmi le domande, il tipo, ma dimmi un po', di che si tratta, sei iniziato a tirarla, e io lì sono impazzito, giusto? Anche io ho fatto un po', la prima donna, ho detto vabbè vediamo un po', ma di che si tratta, c'è questo imprenditore qui che fa, e lui era, non ti posso dire il nome, vabbè vediamo, dovrei andare a Rimini, ho già altre proposte, e lui, ah vabbè non ti preoccupare, io ho altre 153 candidature, ciao ciao, pu pu pu, è rimasto di merda, e io mi pari a dire, cazzo, e ora, lo richiamo, lo richiamo, ero lì, vabbè dico lo richiamo dai, l'ho richiamato, e gli ho detto, no, gli ho detto, venga a vedere tre giorni, vengo tre giorni, e ne parliamo, quindi, poi da lì è storia, nel senso, da lì non ci siamo più lasciati, nel senso è qui la bellezza, no, che ti dico, cioè nel senso le persone, se sei bravo ad attrarre l'attenzione di un qualcuno, la possibilità te la danno tutti, cioè un giorno, due giorni, te la danno a chiunque, devi essere bravo in quei tre giorni, di fare wow, wow, ma non in modo artificiale, in modo artificiale, no, perché le persone dicono, ah sai che faccio, a noleggio una macchina, cioè per fare, no, devi essere te stesso, perché se non sei te stesso in quei tre giorni, al 100%, senza nessun secondo fine, le persone poi non ti sposano, e poi lui, siamo stati fortunati in quel periodo, perché, lo posso dire, prego, siamo stati fortunati, perché era un periodo natalizio, e durante il periodo natalizio, si fanno le cene di Natale, con le varie società, e una delle società, era quella estetica, con 130 estetiste, in un ristorante, c'eravamo solo io, Leonardo e lui, tre maschi, 130 donne, e lui lì, la sera, venne da me dicendo, resto qui, le cose succedono, ok, è tutto casuale, non era organizzato, la cena di Natale, era organizzata da un mese, e sono corrollari questo, non è che, è un qualcosa di fondamentale, ma, questo ha permesso poi, io ho delegato tutta la parte marketing, oggi Eugenio e Salvatore, hanno in piedi, una struttura di marketing, con 30 dipendenti, ad oggi, Salvatore per me, anche se, non è, non è, posizionato online, a livello di comunicazione, ma ad oggi, per me, il marketing è più forte, che c'è in Italia, a livello di struttura, di organizzazione, cioè, 30 persone che coordina, insieme a Eugenio, tutti i giorni, che è una cosa che, a livello di digital marketing, è raro vedere, cioè, c'è quello bravo a casa, con una persona a fianco, uno gli fa le campagne, ma, mettere su una strategia, mettere su una, una struttura così complessa, non è, è gestirla, è gestirla, qui, beh, gestire i creativi, roba dura, massimo 5, cioè, aziende che fanno marketing, con tanti operativi, ci sono 5, che ne conosco 5 in Italia, sì, nel senso, ora ci sono, ma, ti parlo di 4-5 anni fa, era veramente raro, si contavano sulle dita di una mano, e questo, ha permesso poi, a un certo punto, arriva Eugenio da me, rosso, eravamo, amici portuense, e, armavo bisogno di parlarti, cioè, che è successo, no, qui, siamo in 10, 15, siamo, io sto uscendo pazzo, non capisco più niente, che sta succedendo, ho bisogno di un aiuto, e io ho detto, cazzarola, qui tocca strutturarci, e io non avevo l'informazione, e, in una presentazione, una persona, sempre che collaborava con noi, mi presentò, un bigliettino, di un project manager, e disse, ma forse, forse, forse abbiamo bisogno di un project manager, e, e mi venne in mente, Michele, che, ve lo presento, Michele Pavone, mi venne in mente, Michele, e la prima cosa che feci, è chiamarlo, incontrarlo, arrivò, e, su un foglio, dove, io gli chiesi un po', che cosa aveva fatto, un po' nella vita, per conoscerlo, non per l'altro, perché, non mi interessa nulla, ce l'ha scritto, possiamo rientrare quella frase, un medico, prima di diventare bravo, ha fatto qualche morto, io non ne ancora, e io, quindi ho detto, speriamo che qualche cosa, cioè, qualche azienda è andata male, nel senso, in modo tale che non siamo noi i primi, ad essere, vittima, secondo me, con quel bigliettino, tu hai letto, col tuo inconscio, che hai trovato un altro matto, come il nostro, sicuro, e, Michele, quando lo incontrai, era, io alla fine ero l'unico, a cui è stato chiesto il curriculum, ed è stato bello, perché, nel momento in cui è arrivato, lui mi ha trasferito, così tante cose di valore, che a un certo punto, è entrato, in essenza, è entrato un po' in, in competizione, no? E quindi, ah, hai fatto questo, questo, hai preso soldi, hai lavorato in un fondo investimento, oltre mezzo milione di raccolta, per le tue start up, è un ristorante, questo perché vuole collaborare con me? Io mi ho detto, c'è qualcosa che non va, poi, naturalmente, ti faccio sapere, lui avevo fatto una proposta, naturalmente, io amo negoziare, nel senso proprio, il preventivo, il preventivo, amo negoziare, e poi da lì, Eugenio, ritorno da me, la situazione peggiora, hai detto, vabbè, facciamo così ragazzi, visto che, non voglio prendermi io, la responsabilità di questa scelta, mi mando una persona, parlate con lui, e fece una riunione, loro tre, ok? E a un certo punto, venne Salvatore da me, e fece, ma, ma noi parliamo ancora su Whatsapp, non andremo da nessuna parte, e da lì, entrò in gioco Michele, che ha cambiato un po', le sorti, nostre del gruppo, ci siamo strutturati, siamo arrivati quasi a 150 persone, in questi ultimi, due anni e mezzo, quanto tempo è passato? Due anni e mezzo, due anni e mezzo, stiamo strutturando, a livello di gruppo, tante società, stiamo facendo una crescita importante, perché ha portato un know-how, a livello proprio manageriale, importante per tutto ciò che è digitale, che mancava a me personalmente, anche con Leonardo, vedevamo il business, in modo ancora molto semplice, ma in realtà stavamo entrando in un campionato, un po' più complesso, e avevamo bisogno di nuove informazioni, raccontaci un po'. Quelle 30 persone con cui gestiscono, l'agenzia di marketing, c'è una metodologia dietro, c'è un know-how, che io mi sono portato dietro, dal mondo delle start-up innovative, c'è un'infrastruttura tecnologica, dove utilizziamo sistemi di comunicazione, di organizzazione delle informazioni, di distribuzione dei dati, che ci permette di avere il controllo delle performance, il controllo di tutto quello che accade, durante il giorno e la notte, anche mentre dormiamo, in modo tale che, quando siamo operativi al mattino, siamo in grado di ricalibrare le azioni, di rianalizzare tutto quello che abbiamo deciso, nella settimana precedente, di ripianificare, in modo tale che accadano le cose in tempi certi. Che meraviglia, io amo sentire queste parole. Cosa ti ha motivato, nel senso di entrare all'interno del gruppo, nel senso che, appunto, Armando ha spiegato che, già avevi super esperienza, eccetera, era semplicemente una fase transitoria, o hai notato qualcosa, diciamo, di raro, che dici, qua, con il mio aiuto, possiamo creare una, un qualcosa di grande. No, no, aspetta, questa è una meraviglia, fammi dirvi solo sta cosa, tu lo spiegherai a livello razionale, io vi dico solo il perché. Io nel frattempo bevo un po', ottima scelta. Ho iniziato a conoscerlo col tempo, Michele, sicuramente perché ha visto che, che la situazione era veramente difficile, secondo me, secondo me, deve aver visto una situazione, proprio veramente difficile, a lui piacciono le sfide, e qui dice questa, peggio di questa come sfida, non la posso trovare, se vinco questa ho vinto tutto. È vero? Come dice Leonardo è così, nel senso che, io amo le cose veramente sfilanti, e poi, diciamo che, tra di noi, c'è stata una partita di ping pong, su questa negoziazione, come facciamo, come entriamo, e poi alla fine, l'Eugenia Lada, mi ha scritto una mail, e alla fine, quella mail, mi ha convinto definitivamente, ad andare lì, una volta a settimana, cioè, loro sono andati per tre giorni, e poi sono rimasti, una volta a settimana, poi due, poi due e mezzo, poi tre, poi quattro, poi tutti i giorni. Poi la notte, eppure la notte. è stata, diciamo, a livello di persuasione, di, con Michele, è stata un po' più dura, però, quello che ho sempre detto a Michele, era sempre un po' la vision, no? Nel senso, quello che vogliamo costruire, quello che vediamo, quello che si può fare insieme, perché poi, se ci pensi, ognuno di noi, no? ma anche chi ci sta ascoltando da casa, ha un talento, no? Ma quel talento, poi, finisce a un certo punto, perché da solo, finisce. E se ci pensi, prima, eravamo partiti, questa è una squadra di calcetto, no? E quando c'è la squadra che vince, cioè, il singolo, il solo Maradona, all'interno della partita, all'interno del campo, non potrà mai fare nulla, è sempre la squadra che vince. O io ho delle competenze, lui ne ha altre, lui ne ha altre, lui ne ha altre, Leonardo ne ha altre, messi insieme, creano il progetto, creano qualcosa e poi dicono, ah, ma come hanno fatto? Ma poi, oggi, nel senso, c'è solo una piccola delegazione, ci sono altre persone straordinarie, sono entrati a bordo, anche nel mezzo di, dell'ingresso di Michele, che hanno fatto la differenza. Solo questo. E poi, soprattutto, nel senso, con Michele, costantemente lo stuzzicavo, dicevo, smetti di fare cose piccole, facciamo cose grandi insieme, perché sono ossessionato dalla grandezza, io e dalla perfezione. Ecco, una cosa che ci accomuna, credo che sia proprio questo. comunque, tutti vogliamo fare delle cose grandi. Quindi, diciamo, Eugenio non ha libido, eccitazione a letto, se non pensa a un palazzetto a 20.000 persone. Lui, uguale, lui, idem, io, anche, infatti, io ormai ho... E oltre, te Leonardo già l'ho chiesto, ma anche a voi, cioè, al giorno d'oggi, motivano ancora i soldi o c'è qualcos'altro, semplicemente di, ok, sono stato l'unico che l'ha fatto in Italia o in Europa o nel mondo, il palazzetto da 20.000 o quello che è, cioè, cosa che vi spinge a continuare. Chi è questo tavolo non ci pensa mai ai soldi. Cioè, ci pensa ai soldi, naturalmente, a livello di business fatturati controlliamo ogni singolo secondo, quante chiamate hanno fatto ogni singolo, quanto ad spending c'è stato ieri, cioè, però è sempre un concetto investente, a livello personale non lo facciamo per soldi e questa è una cosa che abbiamo notato e ho condiviso tantissimo con Michele nelle varie nostre chiacchierate, che nel momento in cui tu lo fai per soldi non metti la stessa energia, non metti la stessa vision, non attrae le stesse persone, cioè, le persone che abbiamo attratto che di estremo valore lo facevano proprio perché volevano dare qualcosa alla vita, cioè, con i soldi non convinci le persone, i soldi sono una cosa importante perché di conseguenza oggi tutto è bastato sui soldi, ma viene sempre dopo, cioè, è la moneta di scambio per me in questo momento meno importante per fare un po' così di grande. Io posso portare la mia di testimonianza perché l'ho vissuto nelle diverse farsi anche per quella crisi, io credo che i soldi possono farti partire, un po' come uno yacht a motore, no? Esatto. Parti e vai pure veloce per i soldi perché la fame di far soldi, però se puoi fare il giro del mondo prima o poi quel carburante finisce e quindi la cosa secondo me utile è trovare qual è il tuo vento a favore e quindi la passione è l'unico modo che ti garantisci di poter camminare nel tempo, andare oltre qualsiasi difficoltà anche quando hai fatto i soldi perché se no sai cosa succede? Come succede alla sta grande maggioranza delle persone che da 1.500 vogliono 3.000 poi da 3.000 vogliono 6 però ci sono sacrifici da fare per i 6 poi passi a 12 e ci sono grandi sacrifici da passare a 12 poi a un certo punto dici ma chi me lo fa fare? Non so. Perché devo fare tutta questa roba qua per soldi? Cioè io stesso oggi sono molto più schiavo del 2017, no? Schiavo a livello lavorativo e lavoro tantissimo ma non lavoro per soldi non lo farei mai per soldi perché non ho il tempo di spenderli ho venduto 20 giorni fa una Lamborghini che non usavo cioè ci facevo mille chilometri all'anno e adesso venderò pure la Porsche perché adesso credo sia un buon momento per vendere le macchine perché sono un prezzo alto quindi secondo me imprenditorialmente era buono venderla un culo e 12 sedie c'è un culo solo 11 macchine e non ha senso ma questo non l'avrei mai fatto non l'avrei mai fatto se la benzina fosse stata il poter girare ogni tanto con le macchine di lusso capito? Quindi ecco questo è il passaggio importante per tutti quelli che sono nel business o ci si metteranno o stanno già raccogliendo dei risultati secondo me attaccatevi a una causa ci deve essere una causa e non può essere il denaro il denaro è un mezzo e lo stato ripresto te lo auguro di saturarli presto se non è facile far soldi però diciamo che paradossalmente è più facile far soldi che trovare una causa che ti motivi realmente è così almeno per me è stato così Ottimo e questa cosa qua nel senso anche voglio sapere anche il loro punto di vista nel senso che voi come l'avete vissuta cioè nel senso che comunque sia avete già delle esperienze però dal modo in cui vi siete candidati o comunque come è arrivata là l'informazione tolto il suo caso Salvatore meno di 100k mese non si muove esatto nel senso che come l'avete vissuta nel senso che immagino senza andare sui numeri però è una cosa che appunto tanto è una di quei topics su cui effettivamente chi veramente vuole spingere è la sostanza più importante che possiamo comunicare anche a chi ci guarda quindi anche tu dall'altra parte cosa hai provato nel senso che avevi già le idee chiare e tutto quanto cioè qual è stata la cosa che appunto se non è la parte economica ti ha spinto oltre alla visione eccetera però alla fine tanto penso che soprattutto in fase iniziale un po' li guardi per forza poi magari all'interno del gruppo quindi poi anche come si è evoluta tutto lo procedimento e quello che è la tua visione all'interno dell'azienda con il tempo e il motivo per cui ancora stai all'interno va bene 130 no no allora diciamo che all'inizio tutti si muovono per soldi ma non per soldi che ti danno per soldi che puoi fare tutte le persone ambiziose che partono in condizioni normali si svegliano la mattina e dicono voglio avere la Ferrari voglio fare lo yacht voglio fare i viaggi eccetera eccetera poi se inizi non a essere ricco però a guadagnare capisci che non è quello è realmente oggi ho la consapevolezza di dire che ciò che mi ha spinto a fare ciò che ho fatto non sono i soldi ma le persone in primis è la crescita cioè se io io lo vedo dentro di me quando io non studio non imparo cose nuove non sto con loro inizio a stare male perché mi sento fermo se mi fermo io sto male e poi un'altra cosa le persone cioè quando quando sei con persone ambiziose e parli di cose grandi sogni non ci sono limiti è bello e io lancio un messaggio a tutti quelli che sono a casa magari anche le persone diciottenni ventenni che vogliono fare cioè cercate persone come noi e andateci pure gratis cioè bussate alla porta proprio suonate e ciao voglio lavorare con te ma che se fare niente voglio stare solo con te fallo perché stare a casa solo in mezzo alla passatemi il termine mediocrità ma non un termine dispregiativo in termine che persone che non non hanno quell'ambizione perché non gli interessa è giusto che sia così ognuno ha diciamo le sue ambizioni no se rimani in quell'ambiente lì probabilmente prima o poi ti spegni quindi cerca persone così perché quando stai insieme a loro tutto il tempo lì accadono cose magiche io oggi sto qui per le persone per loro ma anche per altre persone certo che è bello andare a lavorare insieme a persone che hanno questa mentalità orientata al problem solving positive dove niente è impossibile dove non si fermano con l'ostacolo dove si cresce sempre si forma sempre si conoscono persone nuove cioè noi siamo qui anche ti dico la verità anche per questo cioè tu mi hai convinto non per il podcast ah facciamo il video che cazzo me ne frega scusate il termine io sono arrivato da Padova non so neanche dove stavo andando sì esatto lui gli ha detto passa da Perugia fermati lì a lui poi ha convinto un po' tutti tutti ma che c'è perché dobbiamo andare lì no andiamo lì realmente l'ho fatto perché parlando un po' con te ho visto che c'era del valore mi piaceva andare a parlare con persone di valore che hanno esperienze che con cui si può avere un confronto quindi è sempre quello che a me motiva poi il podcast esiste esatto esatto quindi per me lato mio sono persone e crescita quindi crescere personalmente e professionalmente tutti i giorni sì una cosa che voglio aggiungere a quello che dice Salvatore per lasciare un po' anche di valore a casa che è una cosa che ho notato nella costruzione un po' dei team che nel momento in cui tu vai a fare humor search quindi vai a fare ricerca del personale le persone arrivano naturalmente perché c'è una proposta economica ma la cosa che controlla sempre è la prospettiva naturalmente quando porti a bordo un qualcuno che vuole solo sicurezza non puoi aspettarti un'espressione di valore a livelli di fatturato o di know-how a livello aziendale e la prospettiva è importante cioè le persone devono avere la vision cioè quando qualcuno sale a bordo bisogna avere ben chiaro ciò che può succedere nel futuro e glielo devi trasferire nel dettaglio può succedere questo questo puoi arrivare a fare questo puoi diventare un top president puoi diventare un vice president puoi diventare un president puoi diventare amministratore legato di una nuova società puoi diventare socio un giorno questa visione ti porta al tuo fianco talenti ma soprattutto avere una grande sensibilità che Salvatore ha sviluppato quando poi gestisce tante persone tenere le persone sempre sul giusto balance tra competenze e sfide quando riesci a fare questo riesci a tenere le persone al tuo fianco per tanto tempo cioè ci devono essere sempre giuste competenze per le sfide che porti sul piatto e sempre giuste sfide per le competenze che le persone hanno se ci sono troppe competenze si va in totale apatia nel senso si va in noia perché se sei troppo competente non ci sono sfide se ci sono troppe sfide si va in burnout è ciò che succede la maggior parte dei ragazzi che si attivano vogliono fare cose che voglio fare voglio fare voglio fare però le sfide che sono forse il clientuccio così non ci sono sfide importanti non c'è qualcosa di ambizioso e quando c'è questo balance con una prospettiva che naturalmente la prospettiva deve essere sempre molto spesso monetaria che sempre qualcuno vuole togliersi degli sfizi ma passa in secondo luogo perché? perché nel momento in cui devono scegliere la crescita alla parte monetaria sceglieranno sempre la crescita e se vedi molto spesso poi naturalmente quando sali a livello societario pensi a diventare una corporate quindi quando farsi i 50 milioni di fatturato e 200 dipendenti lì trovi la persona che cambia lavoro per una ralla di 2.000 euro in più 3.000 euro in più 5.000 euro in più ma sono altri scenari per società molto più grandi quando sei una start up quando fatturi meno di 10 milioni è totalmente basato su vision prospettiva giuste sfide giuste competenze quindi l'imprenditore chi ci sta dietro deve sempre impegnarsi a sapere ma quella persona c'ha troppe competenze e poche sfide o c'ha troppe sfide e poche competenze e questo aiuta a fare un team forte interessantissimo un'altra cosa che mi è venuta in mente voi due soprattutto che insomma vi siete spostati poi a Roma da quello che ho capito no? tranne Michele tutti si sono spostati a Roma esatto quindi comunque sia anche quanto nella costruzione del team avere l'ufficio ha influito perché comunque io sono il primo che ha tutto ovviamente da remoto e lo sento comunque sia il limite e collegato a questo anche quanto rimanere in Italia con la società le persone gli uffici e tutto ha influito poi nella vostra crescita in fase di startup è tutto nel senso che all'inizio io vedevo i famosi meme e poi è partito dal garage Google è partito dal garage tutti sono partiti dal garage e io stavo a casa a 18 anni e ho detto ecco voi il problema non ho il garage però il re che è successo guarda la vita quanto è meravigliosa incontro Leonardo e Leonardo applica una strategia meravigliosa che se dopo vuole approfondire che è rendersi scomodo alla vita cioè quando puoi le cose trovare sempre un modo per essere scomodo e Leonardo ci ha reso scomodo un po' il processo di startup perché siamo partiti da un cazzo di garage via Bartolucci 31 lo possiamo dire? perfetto ok un garage dove non avevamo finestre ok c'era l'impiando di estrazione d'aria ed eravamo lì prima erano tre uffici poi piano piano ci siamo allargati abbiamo ristrutturato ristrutturato poi abbiamo preso quello a fianco il garage a fianco poi a un certo punto siamo esplosi non c'entravamo più abbiamo preso un ufficio molto più grande ma l'ufficio è tutto nel senso che all'inizio io e Salvatore Eugenio viviamo nella stessa casa quindi usciamo costantemente condizionati eravamo ossessionati sabato, domenica ogni singolo momento a costruire e questo fa e c'ha due rischi perché poi l'ho visto con altre persone che non avevano una grande mentalità ti condiziona tanto né bene né male se sono tutte persone con un mindset vigente ti potenziona da sempre ci possono essere momenti che ci si condiziona negativamente ma se c'è qualcuno lucido riuscirà sempre a portare il bello di quel momento che è successo ma quando poi si trovano invece persone che hanno un mindset da loser quello stare troppo insieme poi distrugge tutto quindi c'ha sempre i pro e i contro e tutto quello che succede quando si sta insieme è tutto esploso all'ennesima potenza lo vedi con il grande fratello io non lo seguo però quello che vedo da esterno stando così tanto tempo dentro una casa esce subito quello chi sei perché stai tutto il tempo insieme e questo per me credo sia stata la cosa non riesco a immaginare uno start up di un'azienda totalmente full remoto può succedere nel senso come vedo società che diventi grandi poi dopo reparti e deleghi ma per delegare naturalmente c'è stata una massima fiducia conosci quella persona sei stato insieme a lui hai visto come lavora esatto io ti dico per la mia esperienza ovviamente in relazione alla vostra è molto più piccola però io per ora ho trovato il modo di sistematizzare tutto anche da remoto l'unica parte infatti che vi invidio tantissimo che è veramente secondo me difficilissimo organizzare da remoto è il reparto commerciale credo che se non c'è la motivazione la fa ecco sfida sia veramente qui il maestro è lui infatti il maestro è lui vai allora lasciaci qualche chicca cioè che io poi in realtà appunto come vi ho detto prima la mia prima agenzia è stata reclutamento per aziende vendita diretta quindi io quel sistema l'ho già vissuto però appunto proprio perché l'ho vissuto replicarlo diciamo in maniera digitale remoto è veramente difficile noi solo il reparto commerciale abbiamo in remoto abbiamo pochi in ufficio nel senso mettiamo il QR code col carrello virtuale nel podcast vende sempre vende sempre allora no in verità io sono un project manager esatto venduto in questo momento al reparto commerciale però siccome in affitto in affitto in affitto giusto siccome quando sono arrivato qua da project manager ho fatto un'analisi di quello che ho trovato semplicemente in seguito a questa analisi mi sono fatto delle domande infatti io qui quando sono arrivato il primo mese giravo con un quadernino stava zitto e scriveva e prendevo degli appunti e loro mi guardavano e dicono ma che sta a scrivere su quel foglio così io prendevo appunti così e nel frattempo andavo a casa mi facevo i miei flussi i miei schemi e vedevo che sostanzialmente quello che c'era non era calibrato per poter esprimere le performance giuste e la prima cosa di cui mi sono accorto è che c'erano un sacco di lead nel database e pochi venditori per processarli e allora ho detto vabbè mettiamoci a vedere se nella community c'è qualcun altro che vuole aiutarci a processare questi contatti sostanzialmente abbiamo creato un processo per formare nuovi venditori e poi abbiamo trovato una serie di procedure per fare in modo che queste persone si sentissero parte del team abbiamo creato tutta una serie di cerimonie che ci hanno permesso di legare le persone abbiamo creato una serie di attività che ci hanno permesso di vivere insieme il lavoro e soprattutto di contaminarci e condividere tutte quelle che sono state le vittorie soprattutto le sconfitte e questo ci ha permesso di aggregare sempre più persone in questa aggregazione si sono create delle squadre e da lì poi attraverso il processo di distribuzione delle informazioni abbiamo continuato a creare valore una sessantina interessante questo anche perché è una cosa che soprattutto nelle aziende diciamo di formazione passatevi il termine italiane che sono molto più smart manca praticamente la maggior parte dell'azienda cioè comunque sia su strutturale ecco tre quattro venditori vai vai marchetta ottimo ottimo e invece andiamo nella fase più conclusiva progetti diciamo a livello della branca della formazione che avete in Italia o se ci sono anche idee di portare poi il tutto all'estero cosa avete diciamo cosa bolle in pentola diciamo che ci piace far vedere le cose chiudiamo grazie mille ragazzi ho fatto strapiacere conoscervi vedo che abbiamo fatto un episodio con tantissimo valore anche sketch simpatici quindi mi ha fatto personalmente strapiacere conoscere la vostra storia anche perché appunto ci siamo conosciuti poi qualche giorno fa io ovviamente vi vedo online però non ho avuto né il tempo né comunque sia di poter analizzare tutto quello che c'era stato e sono realmente rimasto colpito in realtà una cosa che mi piace insomma anche del gruppo è che solitamente se si parla con il fondatore o comunque sia chi gestisce è un discorso se si parla con i manager già diventa noioso qui siamo tutti matti invece qua c'è un bello bella squadra quindi veramente complimenti per chi ci sta seguendo ragazzi ricordate che se volete vedere altre interviste con persone di successo iscrivetevi al canale o alle piattaforme su cui ci state seguendo e attivate la campanellina per sapere quando escono i prossimi episodi ciao a tutti ciao